Ciao, sono Andrea Di Pre, al Team Beluga, che eleva a chiave della sua fantasia la moto ma anche la patata, rivolgo i miei saluti separifici e catapurati, complimenti ai ragazzi, e vedete il vostro like alla pagina Facebook, che davvero separifica, complimenti. E se lo dice lui, grazie mille. Grazie mille. Grazie mille.